Oh Mattia, ma è stato grido? Anzolo ha sparato per primo È stato grido? Eh vabbè, allora c'è la gente Senti piuttosto, hai sentita quella del video? Che? Quella del video malefico Cioè? E' quella che se vedi il video poi gli stai quarantena 15 giorni Oh, ne stanno a parlare tutti Ma già, ma che cazzo stai a dire? A me me l'hanno pure mandato, mi sono cagato sotto, ma ancora ho aperto Dai, ma ti pare? Vabbè, montalo in giro Manda, guarda, ce l'ho compito davanti, mandami Fammi vedere se sei coraggioso Ciao Coglione Ecco sto coglione va Buonasera a tutti Siamo ancora nella condizione di Può bene rimanere con il progetto di nascere Prologa all'attuale regime delle misure Così come ci stanno Non siamo nella condizione All'attuale regime delle misure All'attuale regime delle misure All'attuale regime delle misure Quindici giorni e poi si vede Ma non organizzare nulla per Pasquetta E nemmeno per il 25 aprile Ciao Pure per il primo maggio Per il primo maggio Per il primo maggio Per il primo maggio E se vede Per il primo maggio Per il primo maggio